Siamo su Power Drill Massacre Indie Horror Guardate lo stile del menu Il motivetto La locandina anni 80 Che figata Nell'opzione addirittura c'è il video DVD VHS con filtro Io lancio VHS perché fa molto retro New Game Guardate il filtro Assolutamente Abbiamo Un'intruzione Io quando l'ho scaricato Ho detto che c'era la solita roba un po' ignorante E invece mi è già comparso Non è che lo scarichi e lo lanci Installazione Si è decente Esatto L'ho aperto adesso Il menu strafigo Stilisticamente parlando Poi un'introduzione Che figo Che cosa si sta dicendo Qualcuno sta bambando qualcosa Non puoi capire In Houston abbiamo un problema Il servito Tt Il segnale criptato alieno Oppure Annaccessi il sole Annaccessi il sole Follow the light Sole Non puoi accettare il suo Sannato dall'altro Di cieli Quindi se ne avrei sentito Anche proprio il click D'alberso La testa di zainte Ok Ibero delle montagne Che sono Ok Car crash Un'incidente d'auto Signore Un'incidente d'auto Ho sentito l'urlo di una donna, probabilmente... A me sembrava un cavallo che mi trivava, ma magari era una donna. Magari era una donna, magari era un cavallo che guidava. Un cavallo che guidava? I cavalli sono persone orribili. Che ha investito una donna. Il cavallo può avere investito una donna. Giusto, così abbiamo raggiunto. Il cavallo guidava e ha investito la donna. Ha investito la donna. Però chi ha urlato, il cavallo o la donna? Entrambi. Sì. Ok, ora vedo... Ah, Megan, Jeff. Paradise. Megan dice Jeff. Ah, ok. Are you okay? Ah, ok, ragazzi, non si vede un cazzo, ma... Deve essere il cavallo. I can film... No, è la donna. O è l'uomo. Quindi Megan è la cavalla. Sì. Non preoccupare, Jeff. I'll go, go, dad. Cercherò di aiuto. Non preoccupare. Ok, easy. Oh, mio Dio. Ah, levo a casa di nuovo alto senza l'HD. This is the worst headache, a me. Ah, il peggior mal di testa di sempre. Ma penso di stare bene. Ma guardala. I'm stashing in the dark, but I'll get the flashlight. Ok. Oh, mio Dio, cos'è sta cosa? Oh, mio Dio. This is so amazing. Che cosa succede? Cosa fantastica. Che figo. Una cosa fantastica. Dove la flashlight? Dove? Eh, provare a entrare... Probabile che sia una macchina. Ah, fissa la Resident Evil. La lasciamo fissa, beh. Dai, fissa, fissa. La lasciamo fissa, sperando che l'hanno impostata bene, però, eh. Adesso vediamo, intanto. Perché magari non l'hanno impostata bene. Ok. Jeff, don't worry, I'll get fine out. Don't worry. Ecco, la bella idea flashlight, la vedi? Sì, la vede? Ma cagliaio? Ma il flash è pegar up. Scusa! Mio Dio, scusamelo. Quanto gli piace nei sogni al soggetto a queste cose. Beh, però sono davvero imbezziato sulla videocamera. Così? Io spero solo che l'hanno impostata in maniera decente. Vediamo, proviamo allora. Proviamo. Ragazzi, ma è epico. Mio Dio, la colonna sonora è una figata assurda. Sì, ma che figata. Benedetto Cocuzza. Cocuzza? Un Dio Cocuzza Benedetto. Sì, che italiano? Sì, cazzo, 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 la voglio vedere davanti a me adesso. Vieni, vedere che cazzo ci rende. Se solo potessi sentire il vostro parere per decidere quale videocamera scegliere. Quale videocamera scegliere? Sì, insomma, anche per il pubblico. Eh, figo. Però non so, così o con la, aiutami, non lo so io. Eh, bello, così non ci capisco tantissimo. Lascerla così? Eh, vedi, guarda, dalla videocamera non si capisce mai niente. Cazzo, dalla non si capisce, un cazzo. Hai ragione. Un'ambulanza, qualcuno. È serpente. Qualcuno. Ma non è un cellulare. Va bene che, da come sei vestita, sei abbastanza barbona. Sei proprio... Anche anni 80, forse, davvero. Forse anni 80, davvero. Anche la macchina non era delle più nuove. Sembrava una Volvo delle vecchie. Sì. Eh, quindi è probabile che effettivamente, forse il cellulare è manco cerno, o ce l'avevano i ricconi. Ok. Ehi, una cata vecchia, e erano grandi così i cellulare allora. Esatto. Water creepy hole shit, che brutta la capanna. It's boarded. Ah, eh, niente. Ma perché ci sono tutti questi... Non so, Bert, non mi ispira, non mi ispira niente. Mi ispira niente. Senti, se tu fai il giro magari... Eh, no, non si passa da qua. Funga, non c'è un cazzo. Water. Eh, lo so, ma c'erano quelle... No, no, no. No, no. Oddio. Some kids during a pentagram. Uh, satanassi, satanassi. Un pentacolo. Vai via dal pentacolo. Aspetta, aspetta. Oh, no, 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 no. Non c'è dubbio. Bene, non si si vieni. Ok, così però la visuale qua mi piace di più, eh. Devo essere diventata. Diciamo che la cambiamo a seconda del posto, la visuale. Oh, mio Dio. Cos'è sto posto? Un centro commerciale abbandonato? Perché c'è una persona lassù? Cosa stai dicendo? Oh, mio Dio. C'è una persona lassù, Bel. C'è una persona davvero. Guarda, non è fatta anche così tanto male la telecamera fissa. Comunque, molto alla resident evil. Oh. È scomparsa? È scomparsa. Ah, se me ne siamo messi molto male. Già, molto male. Vabbè, un tipo che scompare comunque non è proprio il massimo della normalità. Era qui. Era qui a fissarci questo bastardo. Qui sono dei container? Non so dove cazzo sono. Ah, no, sono semplicemente. Vedo delle cose che... Oddio. Oddio. Negli interni però mi piace questa videocamera. Che figo. Restore this open. Go inside. Go inside, yes. What can I be building? Però c'entra comunque. Però c'entra lo stesso, ovviamente com'è. Beh. Figo. Dio, beh. Qua solo camera fissa. No, no, camera fissa. Oh, no. Vedi, no. Oh, la strada c'è chiusi dentro, Bel. C'hanno chiusi dentro. Ma io non ho armi con cui difendermi. Il tipo scomparso. C'è chiusi dentro. Beh, ma stai male. Che figata, Bel. Oh, my God. Oddio. It's so amazing. Oh, mio Dio, Beh. Incessi. Tu, io sto male. Tu non hai un'idea. Cos'è sta cosa? Dai, dai. Un occhio. Se vuoi possiamo fare cambio, eh. Quando vuoi possiamo fare cambio. Ok, quando non reggo più, Bel, te lo passo. Quando non ce la fai più. Junks? You. Cosa? Non si capisce niente. Si apre sta cosa. No, cesso. Yuck. Ok, è pieno di segni sui muri. Sì. Stupedi vandali. Quei graffeti che ti... Sì. Che cazzo è sta cosa? Che cazzo è sta cosa? Si capisce un cazzo. Via. Qui è crollato tutto, un posto dellapidato. Però sarebbe figo avere una pistola, eh. No, beh, preferisco sapere di non poter... Ah, no, potrei anche morire, effettivamente. Chi può dirlo? Forse dovrei fucire da qualcosa che non mi ispira per niente. Ma noi stiamo controllando che se ci sia qualcuno per aiutare Jeff. Non so che cazzo stiamo facendo. Non ne ho idea. Oddio, mio Dio. Mio Dio, beh. Oh mio Dio. Un articolo riporto, lì. La scuola continua per due campi missing in Pocono Mountains. Mazzon Sea, un sergente di Lowry Summers di Long Island in New York. Sono sparse delle persone. Sì, esattamente. Since June 8, quindi l'8 giugno. E i loro campsite sito in cui sono campati. And their belongings have been located. Sì, but in this case there are a few leads. Policies see there are no visible signs of a struggle. There are a struggle. And this continues to be a rescue mission. The rest is missing. Ok. Beh, insomma, comunque è una missione di sabotaggio per delle persone scomparse. Sta continuando tuttora. An old desk empty, quindi... Ok. Ok, beh, sto male. Che cazzo... No, no, io cammino piano, non ti 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 ti. Che cazzo... Cammini così, beh? Sì, ma ho sentito di ti 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 ti... Senti? Io c'ho tipo delle corse. The fucking same thing. No, no, beh. Ragazzi, comunque c'è da star male qui dentro. Che figata. C'è da stare male. Troppo figo. Sto davvero... Sto davvero... Oh, quello non è di te. Ecco. È bello. Ora mi capisci. Mi capisci? Che cazzo è sta cosa? Mio Dio, ma dove sono finito? Ma qua cosa ci fanno? Qui 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 ci... Ti apre un'ora. Ma qua ci lavorano il cioccolato, troppo. Oh! Qualcosa è stato? Non era un errore nella videocassetta. Che cazzo è? Oh mio Dio. Mi sa stare davvero male. Basta, usciamo da sto posto. No, 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 no. No. Come un fiore personoso degli orari rimango qui e sto a morire. Locked. I feel like I'm being watched. Davvero? Non l'avrei mai detto. Ah, davvero? Io ho questa sensazione da quando ho messo a piede qui dentro. Esatto. Oh, no, che cazzo. Cosa, beh. Era una macchina. Non ho pensato, fosse qualcuno che... Oh, Bell. Oh, no. No, 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 non me gusta. Non me gusta per niente. Non me gusta. Mi scala. Mio Dio, Bell. No, ma non l'ha detto. No, figa la gestione della telecamera anche in questo caso. Comunque, perché ho due 3.000 robe. Oh, lì c'è le robe. Anote il newspaper article, ok. Pocono bashings, non trash for missing campers. Ancora, comunque. Ancora, ancora. Sono tutti, tutti. Continuano a dire che non si riescono a trovare. Sono stracci di articolo. Comunque, 1982. Te l'avevo detto che erano negli anni 80. Vasta vedere come vestite, effettivamente. Le donne e i bandroni alti così non li portano più. Adesso girano nude, cioè, figurati se sei buono. No, non tutte, eh, mi raccomando. Bravo, vivendissimo. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, eh. Però, molte ragazze ormai non hanno più. Pichino. Non ha più vergogna. Che amo questo suono. Perché l'allieno deve scorreggiarci in fascia? Non lo so. E ora abbiamo una chiave. E non sappiamo dove cazzo dobbiamo metterla, però. Ok, è pieno di schifo qua. Cosa c'è qua? Non ho ancora chi? Un leg che è? Ok, comunque abbiamo una chiave blu e una chiave rossa. Ok? Non saltare sul divano, non è buona deduzione. Vai di qua. Torna indietro. È il momento di tornare... Che figa sta cosa. Ok, è davanti qua. Che schifo, cosa c'è quella roba. Oh my God. Sei sei brutto. Sugar tunnel. Il tunnel dello zucchero. Aspetta, prima entra... Mi sta prendendo per il culo. Sì, ti stanno prendendo per il culo. Cosa c'è cos'è lo zucchero in questo caso? È una metafora, un simbolo. È la droga, la droga, non è la droga. Ah, la droga, bene. Allora, la droga! Non ti preoccupare, è la droga. Roba, roba, oddio, Bel, sto male. Dammi questa telecamera. Ok. Non penso sia una mosso positiva. Sì, vedo di più gli angoli, Bel. Vedo gli angoli almeno. Dove si va di qua? Ma basta, è un laberinto a sto posto, non ci capisco più niente. Ragazzi, non è ancora successo nulla di significativo. Oddio. Oddio. Bel, dove c'è? Non è ancora successo nulla di che, però io sto male. Cioè, comunque, non avete idea di quanto possa far star male st'atmosfera. Oddio, Bel, ma dove sono? Completamente silenzio. Sto male. Non c'è più un suono. Sto, 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 sto malissimo. Eh, vabbè. Ma io corro via, Bel. Ma io non sarei mai entrato. Ma io mi lancio contro il muro. Oddio, cos'è sta... Oddio. Di là si sale, ma di qua dove si va? Di qua si scende. No! Oddio, è lo spavento più grande della mia storia. Beh. Che cazzo? Belli brividi, Bel. Belli brividi, Bel. Oh, Bel. Io penso di essere mai stato così male in vita mia. Che cazzo? Io non sono mai stato così male in vita mia. Oh, mio Dio. Neanche Amnesia regge il confronto, i tempi. Bel. Neanche Outlast. Io non sono mai stato così male. Così cattivo, no? In vita mia. Questo è il gioco del futuro, ragazzi. No, così cattivo, no, ragazzi. Cioè, io sto malissimo. Adesso però... Oddio santo. Bell, perché non giochi un po' tu? Ti ho detto che io sono raggiunto... Ah, di nuovo qui? Cosa? No, cazzo. Corri, Bel. Corri. Intanto sappiamo dove dobbiamo andare. E devi andare là per forza. Corri. Non mi ricordo dove... Qua, 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 qua. Boss. Qua ci sono delle scale. Oh, mio Dio, non erano queste scale, però. Oddio, ci sono delle altre scale, queste. Cazzo, beh. Top! Dove andiamo a finire, Bel? Prova la pista roba. Oh, questa mi sa che si apre, però. The Jory's Locks. Guardate che... Eran queste, beh, eran questa la porta. Top! Vai, figo. Sì, però, beh, dobbiamo... Non c'è un cazzo qua. Ok, allora, dobbiamo trovare le chiavi e... No, torna al posto di prima, beh. E si può andare anche qui, va. Torna al posto di prima. My God, ragazzi, è... Eh, lo so. È very, very difficult. Lo so. Di quarta. Oh, Dio, la faccia. Di qua, forse erano quale... Forse hanno subito qui la scala. Ecco, 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 ecco. Sali, per sa. Puttana, stai andando. Ah... Sali. Ecco. Dio, santo, ragazzi, è lo spavento più grande che mi sia mai reso. Ma gli altri non erano tosto, davvero. Mi sono... La gatto letteralmente in mano. Ok, Alexis. Sto male. Ma io... Ce n'eran due, beh, ricordati che ce n'eran due. Eh, lo so. Ce n'era un'altra da qualche parte. C'era qui da qualche... Forse è nell'altra stanza, eh. Eh, è nell'altra stanza. Nel frigo, mi ricordo. Nel frigo. Non c'è. Cambia, no? È semplice. Ah, no, forse è quella lì. F***. O è un pezzo di giornale? No, questo è un pezzo... Pezzo di newspaper... No, no, no. No, Dio, no. Cambiano. Cambiano. Spostano. Sì, cambiano. Le spostano nella location. Sto a provare a farmi vedere? No. Beh, dobbiamo tornare nel posto in cui sono morto prima. Lì c'è qualcosa di sicuro. Dentro. Ma è la morte... Lo so che è la morte, lo so benissimo. Entro. Vai, Trenko. Easy. Allora, dove andiamo? Ok, sei morto. Ma ancora non è un discorso. Eh, non so, forse qua... Non so se fai meglio con la telecamera fisso o meno. Fai tu, poi. F***. Non abbiamo armi, però, per difenderci. Questo è... Oh, no, no! No, no! Che è il problema! Surprise! Surprise! Un cazzo, surprise! No! Oh, no! Oh, no, surprise! Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Fermi, fermi. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Questo è violentissimo, sto gioco. Fermi. Quanto cazzo è violento. Il nostro cuore non regge più quell'idea di sapere qualcosa che prima dell'episodio, perché ne faremo, proveremo a farlo un secondo, per vedere se riusciamo a trovare le chiave, quantomeno. Però sappiamo che questo è il primo episodio, perché... Tostissimo, ragazzi. Tostissimo. Vemmi male, Sraman. Zambo. Per davvero tutto. Alla prossima. Ciao.